Nuovo appuntamento con Spazio Notizia. La cronaca in primo piano partendo da Palermo negli ultimi giorni è diventato virale sui social un video che immortala una corsa clandestina trapponi nel centro della città, corsa poi terminata tra l'altro con un incidente. Ebbene i carabinieri durante le indagini hanno trovato uno dei cavalli partecipanti a questa corsa clandestina e denunciato il proprietario. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia Piazza Verdi con il contributo dei carabinieri forestali del centro anticrimine natura di Palermo Nucleo CITES hanno deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria un 28enne palermitano con l'accusa di maltrattamenti di animali e partecipazione a competizione non autorizzata sempre tra animali. Negli ultimi giorni sui social network era divenuto virale un video nel quale viene ripresa una competizione clandestina fra cavalli in via Mongitore nel quartiere Ballarò. Nel corso della gara uno dei due animali guidato da un fantino e trainante un calesse era andato a impattare contro un'autovettura. I militari dell'arma hanno dato inizio a una meticolosa attività info-investigativa per risalire agli autori del reato e agli animali partecipanti alla competizione anche mediante l'analisi delle immagini. Proprio fra i vicoli del quartiere Ballarò è stata trovata una stalla abusiva e sconosciuta all'autorità sanitaria a Tigua a un magazzino in cui era presente uno dei due poni. I carabinieri sono risaliti quindi al giovane proprietario rinvenendo e sequestrando un calesse utilizzato per la corsa clandestina. Il poni, visitato dal personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Palermo, non presentava ferite evidenti. Era sprovvisto di documentazione sanitaria e microchip ed è risultato compatibile con il cavallo coinvolto nell'incidente avvenuto durante la corsa. L'animale è stato dunque sottoposto a sequestro sanitario e trasportato con idoneo mezzo adibito al trasporto animali prontamente messo a disposizione del corpo forestale della regione siciliana presso l'Istituto Zootecnico Sperimentale per la Sicilia di Palermo, dove è stato affidato a personale specializzato che procederà all'identificazione dell'animale e all'effettuazione delle necessarie analisi per valutarne le effettive condizioni di salute. Parliamo ancora di emergenza migranti, sempre di grande attualità e ci sono delle novità che arrivano da Lampedusa. Nuovo record di sbarchi a Lampedusa, con oltre 2000 migranti in 24 ore. Sono 267 gli ultimi approdati sull'isola fra la notte e l'alba di oggi, dopo che sei dei sette barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi da una ONG e dalle motovedette di Capitaneria e Guardia di Finanza. Ieri, sull'isola di Lampedusa, si sono registrati 43 sbarchi con un totale di 1778 persone. All'hotspot di Contrada in Briacola, dove da ieri sono state trasferite complessivamente 525 persone, al momento ci sono 1831 ospiti a fronte però di una struttura con poco meno di 400 posti disponibili. Cambiamo argomento, parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti. Ci spostiamo virtualmente a Messina, dove i carabinieri durante un controllo hanno beccato e tratto in arresto un giovane pusher. Si tratta di un 18enne trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della compagnia di Messina a centro hanno arrestato un giovane di 18 anni, residente a Messina, per detenzione di sostanze stupefacenti con l'intento di spacciarle. I militari dell'arma hanno notato il comportamento sospetto del 18enne in una strada del centro e lo hanno fermato. Dopo averlo perquisito, hanno deciso di estendere i controlli anche alla sua abitazione, dove hanno trovato 70 grammi di hashish, marijuana e funghi allucinogeni, quattro bilancini di precisione e altri strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi di stupefacente, il tutto ritenuto materiale da spaccio. Durante l'operazione sono stati rinvenuti anche oltre 700 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell'attività illecita. Il giovane è stato quindi posto agli arresti domiciliari in attesa del processo immediato. I carabinieri hanno effettuato servizi straordinari nelle zone centrali della città e nel quartiere di Giostra, controllando 57 persone e 45 autovetture, al fine di prevenire e contrastare la commissione di reati e altri comportamenti illeciti. Durante le attività antidroga, un altro giovane è stato segnalato all'autorità amministrativa per detenzione di un grammo di cocaina per uso personale. In relazione alle violazioni della circolazione stradale, due persone sono state denunciate per guida senza patente o patente revocata, mentre un altro automobilista è stato deferito per porto abusivo di arma, poiché era in possesso di un coltello a serramanico. I carabinieri continueranno a intensificare l'attività di controllo del territorio nei prossimi giorni, concentrandosi soprattutto nelle fasce orarie più a rischio, al fine di essere vicini ai cittadini e svolgere un'efficace attività di prevenzione e dissuasione nei confronti dei malintenzionati, in modo da evitare la commissione di reati. Parliamo adesso di un furto commesso in un istituto scolastico di Raffadali, siamo quindi nell'Agrigentino, per la precisione l'istituto comprensivo Garibaldi Capuana, come detto a Raffadali. I ladri, dopo aver scassinato la porta di emergenza posta al piano terra dell'edificio, si sono intrufolati all'interno del plesso scolastico e hanno rubato sei picci portatili per poi ovviamente fuggire via e far perdere le loro tracce. La dirigente scolastica, dopo aver fatto l'amara scoperta, ha presentato una denuncia ai carabinieri di Raffadali, ovviamente una denuncia a carico di ignoti. Purtroppo nella zona non ci sono sistemi di videosorveglianza e questo certamente renderà più complicate le indagini da parte dei militari dell'arma. Si tratta comunque dell'ennesimo raid all'interno di un istituto scolastico di Raffadali nel giro di pochi giorni. Cambiamo ancora argomento, adesso una notizia da Palermo, dove il questore ha sospeso per 30 giorni la licenza per trattenimenti danzanti e la scia per la somministrazione di alimenti e bevande di una discoteca, una discoteca situata in Via Calvi, come detto nel capoluogo siciliano. La decisione è stata presa in seguito a una violenta aggressione avvenuta all'interno del locale nella notte tra il 4 e il 5 febbraio, quando almeno 10 persone si sono scagliate contro due giovani frequentatori della discoteca. Uno dei due, pestato violentemente, ha avuto la peggio, ha riportato infatti una prognosi di 30 giorni per i traumi al viso riportati durante l'aggressione. La sospensione di queste licenze comporterà ovviamente la chiusura temporanea del locale per 30 giorni, una decisione, quella presa dal questore, per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire la ripetizione di simili episodi di violenza. Ci spostiamo adesso nel Trapanese per la precisione a Castelvetrano, dove i carabinieri hanno invece denunciato una 52enne del posto, ritenuto presunto responsabile di ripetuti maltrattamenti nei confronti della madre anziana. L'uomo, nel corso dell'ennesima lite, avrebbe addirittura colpito la donna con un violento pugno al volto, costringendola a scappare e rifugiarsi da una vicina di casa, la quale, viste le condizioni della malcapitata, l'ha portata in ospedale per permetterle di ricevere le cure dei medici. L'anziana donna, che in tutti questi anni non ha mai denunciato il figlio, nonostante i continui maltrattamenti, ha cambiato abitazione trasferendosi in una località sicura. Ci spostiamo adesso a Catania, parliamo dei controlli a tappeto, effettuati dai carabinieri in centro, controlli che hanno portato a delle sanzioni. Vediamo perché. I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante, supportati dal XII Reggimento Sicilia e in collaborazione con il reparto Annona della Polizia Municipale di Catania, sono stati impegnati in un servizio di contrasto all'illegalità diffusa nel centro storico della città. I controlli si sono concentrati in zona Piazza Palestro, via Vittorio Emanuele II e via Giuseppe Garibaldi. È scattata la sanzione amministrativa per occupazione di suolo pubblico mediante l'esposizione della merce per un 34enne e un 40enne, entrambi catanesi e titolari rispettivamente di una rivendita di generi alimentari in via Garibaldi e di articoli per la casa in via Vittorio Emanuele II. Analoga sanzione scattata per un 48enne catanese, titolare di una rivendita di bibite di via Garibaldi, sanzionato inoltre per un importo di 3.098 euro poiché è stata riscontrata la mancanza della scia, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività. I controlli effettuati in zona Piazza Palestro, presso una rivendita abusiva di prodotti ortofrutticoli, hanno invece consentito di elevare al titolare, un 37enne catanese, sanzioni amministrative per un totale di 481 euro per avere occupato abusivamente il suolo pubblico e per avere esercitato la vendita di alimenti senza autorizzazione. I carabinieri hanno proceduto al sequestro di una bilancia e di circa 150 kg di prodotti ortofrutticoli, poi devoluti a un'associazione con fini di beneficenza. Nel medesimo contesto operativo sono state effettuate alcune perquisizioni personali per la ricerca di droga che hanno fornito riscontro per un giovane trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente e pertanto segnalato quale assuntore alla locale prefettura. I controlli alla circolazione stradale, infine, si sono conclusi con l'identificazione di una quarantina di persone, il controllo di una ventina di veicoli e l'elevazione di 5 sanzioni per violazioni al codice della strada per un importo complessivo di circa 3.000 euro. Notizia di cronaca dal siracusano, per la precisione da Rosolini, dove i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un pregiudicato, si tratta di un 47enne, per violazione della misura di sicurezza alla quale l'uomo è sottoposto. Il 47enne, al quale il Tribunale di Siracusa ha applicato la sorveglianza speciale con il divieto di soggiorno nel comune di Rosolini, è stato invece sorpreso dai militari dell'arma per le vie del centro abitato, incurante delle prescrizioni che gli erano state imposte. Pertanto, dopo le formalità di rito, l'uomo è stato associato presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa. Ed ora invece parliamo di calcio e nello specifico del Palermo andiamo ad ascoltare le dichiarazioni dell'attaccante, rosa nero Luca Vido, dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club direttamente dal ritiro della squadra a Girona. E allora sentiamo le parole di Vido. Qui a Girona ci stiamo trovando molto bene, sicuramente la società è attrezzata, i campi sono fantastici, quindi c'è tutto per potersi allenare al meglio. Sì, dopo Manchester stiamo facendo quest'altra esperienza che sicuramente grazie al City Group ci aiuterà, sta formando tutti i ragazzi, anche i più giovani, per delle realtà davvero importanti. Il mio gol contro il Modena è stato una liberazione, una grande montagna russa di emozioni e lo dedico veramente ai tifosi perché sono stati sempre speciali con me, mi hanno sempre sostenuto e quindi lo dedico al Palermo Calcio e ai tifosi e spero di farne tanti altri. La vittoria contro il Modena è stata fondamentale perché ci ha ridatto grande spirito visto che abbiamo fatto cinque gol, l'abbiamo voluta, l'abbiamo cercata fino all'ultimo istante e sono sicuro che se ci metteremo lo spirito di tutta la partita ma soprattutto nel secondo tempo possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni. Questo è un grande gruppo e tutti fanno veramente la differenza sia chi gioca che chi non gioca, chi gioca dall'inizio che chi entra quindi il mister ci sta facendo fare un percorso sotto questo punto di vista e tutti facciamo il possibile per essere determinanti sia partita iniziata sia partita in corso. Giocare davanti a 20.000 tifosi anche di più è sempre una grandissima emozione io quando entro al Barbera per me è sempre speciale e voglio godermi fino all'ultimo istante. Restano ancora otto partite ma sono le otto partite più importanti della stagione noi siamo qui per prepararle al meglio e abbiamo voglia di far divertire la nostra gente e abbiamo voglia di divertirci noi. Siamo già a lavoro pensando alla gara di Parma stiamo già lavorando in campo stiamo già lavorando fuori a video quindi stiamo facendo tutto per essere pronti per quella partita. Il mio rapporto con Palermo e i palermitani è fantastico perché sia a Mondello sia a Palermo Centro io sto veramente benissimo i palermitani mi hanno subito fatto sentire il loro affetto e non l'hanno soprattutto mai fatto mancare questa è una grande dote secondo me e siamo contenti abbiamo voglia di farli divertire e vogliamo divertirci anche noi insieme a loro. E con le parole di Luca Vido ci fermiamo ma l'informazione ovviamente prosegue su Sicilia 24 a più tardi.